Il punto Tamponi si trova in via 25 Aprile con due accessi pedonali, uno dal civico 66 e l'altro dal civico 82. È attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, quindi le persone devono rivolgersi al proprio medico curante oppure al proprio proprio prediatra che provvede a prenotarli. Al momento prevediamo questa fascia oraria ma c'è l'intenzione di ampliarla anche al pomeriggio e di dedicare il punto esclusivamente alle scuole. Il punto è attivo grazie alla collaborazione dell'Asto 4 che ha ricevuto da parte mia diverse insistenze per l'apertura e poi con la collaborazione della protezione civile, della Croce Verde e ovviamente dei volontari medici infermieri che si prestano a fare i tamponi. Quindi pensiamo che questo servizio in questo momento così complicato sia davvero utile per i cittadini che così evitano di spostarsi magari anche a 20-30 km di distanza per verificare la positività oppure per uscire dalla quarantena. Quindi l'impegno e anche il ringraziamento va a chi si è adoperato affinché funzionasse e l'impegno è quello soprattutto di continuare a mantenerlo e di ampliarlo visto il periodo che stiamo vivendo. Grazie